No! Ok! Questo dovrebbe trattenerlo per un po' Dome? 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 No Dame che hai fatto? Oh no! Ah no! Fatti sotto! Ok! Ah no! No, aspetta, che fai? Dame! Sei stato un eroe! Cavolo, cavolo, sono in ritardo! Dame! Dove sei? Oh, eccoti! Forza, andiamo! Dame? Vai! Dame! Muoviti, Dame, che abbiamo un po' con te! Ma, dove è il mio orologio? Peli e basta! Dame? Ehi! Ma che diavolo fate? Scusa, abbiamo fretta! Dame? Stai male! Stai male! Mi ha detto di non mangiare tutti quei panini! Vai, cuginetto! Lasciati andare! No, Dame, no! Oh, no! Oh, no! Forza, nave! Dobbiamo andare! Muoviti! Dame! Dame? Oh! Don't be! Oh! Dammi! Forever! administration! Hmmmm! Hmmmm! ibượt! Abaclane! Eccomi, dame! Dove sei? Dame? Che ti è successo? Che fai? Dame, perché? Buongiorno, amici! Dame? Johnny? Non c'è nessuno? Ma che vi è successo? Sdame! 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 D'accordo Ecco fatto! Oh cavolo! Questo è bello grosso! Dame? Oh, ciao Dame! Ti stavo cercando! Dame? Non so perché, ma c'erano un sacco di sdame affamati! Ma adesso non c'è più niente da tenere! Sono tutti qui dentro! Dame? 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 Mi ha chiamato Dame? 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 Oh!